Siamo arrivati in un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Siamo già venuti questa mattina con un altro mezzo, ci siamo resi conto che ci voleva un mezzo ancora più grande di quello che avevamo questa mattina. Siamo stupiti, siamo increduli, allibiti. Letteralmente allibiti. Anche il nostro territorio è stato colpito, ma non così pesantemente. Questa è veramente una situazione epocale. E' surreale, quando proprio la realtà supera la fantasia. Vedi a quei signori l'asse che hanno bisogno. Vedi che è dell'acqua? Vedi che è un'altra parte di un'altra parte. Vedi che è un'altra parte di un'altra parte. Vedi che è un'altra parte di un'altra parte. Grazie mille, grazie per te. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. 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 Grazie a tutti